prendo una matita che è più che altro una matita che va chiaramente io con questo tipo di disegno qui vado praticamente immediatamente in ipnosi perché mi perdo intorno no non è grande ok 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 e questo è bello perché tu come vedi la linea continua eh ma ho detto che non è bello se comincio a fare ste robe è bello 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.